Il Martinsicuro Il Martinsicuro Il Martinsicuro Il Martinsicuro Il Martinsicuro Il Martinsicuro Il rigore sbagliato non frena però la vena propositiva del team di Salvatore. Lo testimonia il frizzante a Dari al 68esimo con una gran bella girata al volo che merita gli applausi del pubblico. La reazione ospite è flebile. La punizione di Tucci da oltre 30 metri tiene sveglio Cinquegrana. Nel giro di sei minuti due Spadano lasciano il proscenio a favore di Martelli e Pignotti ma non cambia la solfa in casa frentana. Il Martinsicuro gestisce il doppio vantaggio. Il Martinsicuro L'arbitro ha visto l'espulsione e dispiace perché comunque a quel punto della partita era ormai conclusa e finita e non doveva cadere in quell'errore. Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita perché abbiamo regalato il primo tempo al Martinsicuro e loro giustamente ci hanno punito. È vero che poi c'è stata una positiva reazione però dobbiamo fare un mea colpa per il primo tempo.